Musica Amici telespettatori bentrovati, eccoci un altro appuntamento di 7 minuti. Parliamo con la politica delle priorità della Sicilia e in vista delle prossime elezioni europee. E con noi l'onorevole Ismaele Lavardera, bentrovato. Grazie, grazie dell'invito direttore. Allora andiamo subito alla concretezza, parlando di secondo voi qual è la priorità che la Sicilia in questo momento ha necessità di sviluppare. Noi da un anno e mezzo siamo all'opposizione di questo governo come prima forza politica in Sicilia. Abbiamo toccato con mano un governo assolutamente assente rispetto a dei dossier che sono cruciali per la nostra regione, primo tra tutti quello della sanità. Viviamo ancora oggi in una sanità, io fino a due giorni fa sono stato con Cira Maniscalco, una mamma di una bambina affetta da una patologia rara, che per curare la propria figlia deve pagare con i propri soldi di tasca sua per farla curare al gaslini. Perché qui non c'è un ospedale adatto per la patologia della figlia, abbiamo fatto un blitz a Schifani dopo che abbiamo chiesto più volte di essere ricevuti ma non ci ha risposto. Siamo andati lì con la mamma di questa bimba e Schifani ci ha lasciato giù. Allora il tema è questo, in questa regione dove non funziona nulla ma in modo particolare la sanità che è un diritto sacrosanto costituzionalmente garantito, e la priorità dei siciliani è quella, i siciliani vogliono andare in un ospedale e sapere di poter essere curati e non aspettare mesi anche solo per una visita, sapere che anche per fare una visita in un ospedale pubblico non debbano rivolgersi al deputato di turno, al consigliere comunale, perché funziona così, in certi ambienti funziona così. Allora questo è quello che noi denunciamo da mesi e chiediamo al governatore una, come dire, forte cambio di passo, ma il cambio di passo non avverrà mai perché i manager della sanità sono frutto di accordi politici e quando la politica entra nella sanità abbiamo perso tutti. E andiamo, perché abbiamo tanto da dire a proposito delle prossime elezioni europee, adesso dopo i risultati che avete ottenuto chiaramente ci sono delle prospettive, delle linee guida, credete di andare in Europa e a rappresentare la Sicilia? Ma sicuramente non potevamo rimanere a guardare in un momento storico in cui l'Europa, che è centrale e cruciale nel dibattito mondiale di quello che sta accadendo ed è sotto gli occhi di tutti, guerre che non vuole nessuno e che ostinatamente continuano a esserci. L'Europa era nata, ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale per stabilire pace e stabilità tra i popoli. Invece oggi c'è una corsa, gli armamenti anche dei capi di Stato, della serie che chi ha i più armamenti sei più figo. Non ce lo possiamo permettere. Noi non potevamo rimanere a guardare in questo mare magnum. La nostra forza politica, che è la prima forza politica data alle elezioni regionali, fa un passo forte, un passo di coraggio. Non siamo un partito come gli altri, big, nazionale. Decidiamo di metterci in gioco, di scendere in campo e di fare una partita che per noi è assolutamente, siamo visti come i svantaggiati, i Davide contro i Golia. Io a Palermo, per intenderci direttore, mi affronto e mi scontrerò con i mostri sacri, dall'Euluca Orlando a Edi Tamayo, passando per Milazzo, e questi sono i miei competitor. Io chiedo ai siciliani e ai palermitani, in questo caso, se volete ancora una volta votare le solite minestre arriquariate. Cateno De Luca è stato preso in osservazione da Vespa, che vi ha dato dei dati sul nazionale. Sì, dei dati oggettivamente clamorosi, perché nessuno pensava che potessimo esordire al 3,7% nazionale, significa un passo dalla soglia di sbarramento del 4%, ma vorrendo rimanere con i piedi per terra, i sondaggi sono soltanto delle suggestioni, stiamo facendo un lavoro importante, perché ricordo a tutti i siciliani che la vera lotta che dovremmo fare, e i sardi, ma tutta Italia, perché sono candidato nel collegio Sicilia e Sardegna, la vera lotta è riportare la gente a votare. Questo è il vero obiettivo, perché le scorse europee sono andate al voto qualcosa come un milione e mezzo di elettori su 5 milioni di siciliani. C'è un problema serio, c'è un problema serio di credibilità della politica. Ma questo nasce dalle affiliazioni che il Movimento ha fatto in Italia, perché abbiamo sentito Di Luca che ha messo 10 o all'incirca... Noi abbiamo fatto un lavoro di 18 liste. Il tema è questo, all'interno di queste liste noi abbiamo messo diverse anime, diverse anime che su tanti temi la pensano esattamente al contrario. Qual è la questione? La lista si chiama libertà. Che vuol dire dare diritto anche democratico a gente che magari su certi temi la pensa in una maniera diversa, che si riuniscono su 15 punti programmatici, non su cose che stanno sul cielo. 15 punti programmatici, e li abbiamo messi nero su bianco, molti dicono ma come fate a mettere insieme gente che su tante cose pensa in modo diverso? Io credo che su una cosa siamo tutti d'accordo. Meno Europa, più equità. In questi anni l'Europa non è stata un'Europa benevola verso i propri cittadini europei, è stata un'Europa che ha schiacciato, ha tritolato l'Europa delle banche, l'Europa delle lobby, l'Europa che ci deve dire a casa nostra che cosa dobbiamo coltivare e cosa non dobbiamo coltivare, l'Europa che ha schiacciato i ricoltori, l'Europa che la Meloni voleva cambiare, andando lì dicendo cambierò tutto, e poi ha cambiato se stesso. Allora noi questo vogliamo fare, sapendo di avere comunque un'esperienza amministrativa, perché il nostro movimento è un movimento di governo, noi abbiamo amministrato, Catano di Luca ha amministrato città con risultati straordinari, Messina, Ora, Taormina, che è il fiore all'occhiello della Sicilia, io come deputato, e lo rivendico, sono tra i deputati più presenti al Parlamento, record di presentazione e interrogazione, 180 atti parlamentari, 20 disegni di legge, cioè quello che io ho fatto in questo anno e mezzo, è un lavoro che sicuramente può essere proseguito bene a Bruxelles. Molti dicono, ma perché te ne vai a Bruxelles e lasci la Sicilia? Perché il problema della generazione che ci sta a guardare è che è come se vedesse Bruxelles come qualche altra cosa rispetto alla Sicilia, cioè l'idea che si ha è che Bruxelles non è la Sicilia, ma l'Europa è la Sicilia, la Sicilia è l'Europa, il lavoro che si fa qua si può continuare a fare anche a Bruxelles, anzi, a maggior ragione, con più forza. La Vardera, candidato alle prossime elezioni europee, quale sarebbe la prima cosa da dire stando seduti a Bruxelles? Ma il tema è andare in un posto che non ci piace, perché l'Europa così per com'è non ci piace, e provarlo a cambiare, cambiando come? Con l'approccio pratico, cioè non può essere un'Europa delle multinazionali. Quale linea politica europea vi state... Questa è una bellissima domanda, e al nostro interno sta nascendo un ampio dibattito, perché avendo messo insieme tante forze politiche, è giusto che noi possiamo anche dare un'idea di che cosa è il nostro collocamento. Quindi la risposta che direi è una risposta a carattere personale, e in questo momento me la tengo per me, però credo che i siciliani lo sapranno, perché faremo ovviamente diverse conferenze stampe, prenderemo una linea chiara e inequivocabile. Una cosa mi lasci dire dire direttore, mentre gli altri capi delle forze politiche stanno fuggendo al confronto, perché effettivamente non vogliono candidarsi come capolista in tutte le isole. Vedi la Melonia, ancora non ci ha detto, se si vuole candidare come capolista in tutta Italia, perché si ha paura del confronto. Catano Duca una cosa ha fatto, ha detto intanto ci metto la faccia e mi candido capolista in tutta Italia, quindi è la preferenza e vedremo di capire, intanto un leader politico ha deciso di rimetterci la faccia al voto, perché nella mia posizione, caro direttore, potevo stare sereno al mio posto, ed evitare che la gente mi giudicasse, perché è anche pericoloso. Se faccio tonfo significa che la gente non piace il lavoro che ho fatto in questo momento in Sicilia, quindi anche mettersi in discussione, mettersi in gioco è un rischio. In sette minuti avete ascoltato il punto di vista di Ismaele Lavardera, prossimo candidato alle elezioni europee. Di già? Di già. Incredibile, il tempo vuole. Abbiamo finito, purtroppo sì, è pochissimo, però avremo modo di incontrarci ancora. Grazie intanto per essere stato con noi e voi restate su Telewan, perché la nostra programmazione continua.